Finalmente SEP c'è, il nuovo distributore di carburanti a mercato libero a Gubbio in via dell'Arboreto. Agenzia Unipol Sai a Gubbio in via Pierluigi da Palestrina 2224, agente Cecchetti Mirella. Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento Metodi TRG. Andiamo ad analizzare la giornata di giovedì 14 giugno, giornata che viene vista al momento come le peggiori della settimana, nel senso che avremo la possibilità di temporali sparsi su tutta la regione per tutto il corso della giornata, temporali che potrebbero essere anche intensi in area appenninica e nella parte orientale della regione, quindi nel pomeriggio anche fra il Gubbino Gualdese e Alta Valle del Tevere. Avremo forse qualche episodio di grandine anche se sarà molto localizzato e soprattutto nel primo pomeriggio. Avremo le temperature minime che si attesteranno intorno ai 9-12 gradi, quindi con un lieve calo, così come le temperature massime che caleranno ancora di qualche grado e si attesteranno intorno ai 21-24 gradi. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento.